Oh, signor Fumagalli, buongiorno, buongiorno, bentornato, siamo... Perché vuoi sempre fare... cosa tocca, cosa tocca? C'era una mosca. Allora, bentornato, ho saputo che ha lavorato nel frattempo. Sì, ho fatto un mesetto di prova come idraulico. È andato molto bene. Allora, come lei ben sa, questa è una fabbrica di carta. Ma come cazzo fa stare in piedi? Cioè, se piove non si affloscia tutto. Sì, vabbè, lasciamo stare. Mi dica solamente perché è qui. Perché è qui? Sì, mi prenda per il culo. Ma mi devo alzare? Cioè, vuole che le prenda il culo. Ma che c'entra con la carta? Sa che le dico, ci sarebbe un lavoro da farle fare. Davvero? Lei è assurdo. Ma faceva tutto il figo, la fabbrica di carta tua invece è tutto normale.